I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per detenzione di armi clandestine e di droga a fini di spaccio un 36enne incensurato del posto. Giorni fa i carabinieri durante un servizio di perlustrazione nel quartiere pugliano hanno rinvenuto casualmente in un affranto nei planetti di Ashish. Immediate le indagini dei carabinieri che hanno messo in atto diverse perquisizioni nella zona del ritrovamento con il supporto del nucleo cinofili che hanno indirizzato i militari nell'appartamento giusto. In casa del 36enne i militari hanno rinvenuto e sequestrato 5,7 kg di Ashish distribuiti in 57 tavolette e due revolver calibro 38 con matricola a brasa. Una di queste era carica e pronta all'uso. Sequestrata anche una pistola salve e diversa materiale per il confezionamento della droga. Con le armi e anche 96 munizioni dello stesso calibro. L'arrestato è ora in carcere in attesa di giudizio. Grazie.